Il quarto posto è la numero 4 La mia scatenata Il quarto posto è la numero 2 Il quarto posto è la numero 5 Il quarto posto è la numero 5 Il quarto posto è la numero 5 Il quarto posto è la numero 6 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 Il quarto posto è la numero 6